Mi hanno perso queste cose che ho scritto, quello che ho scritto e quel ragazzo non c'è quello che prendeva i nomi e io non faccio quello che scrivo, mi capisci? Però non c'è uno che mi capisce nella vita Da dove vieni tu? In Santa Remia, c'era la riva Santa Remia A Santa Remia c'è, si mangia bene, aveva un pellecone, si accattano vestiti a basso prezzo Da dove vieni tu? Sempre San Procopio, non cambia stai mai inizio da te sei dovuto Accomodatevi, dai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti